Torna il pensiero e la scena, il primo appuntamento di quella che potremmo definire la quarta stagione, come si dice in questi casi, il quarto anno di questo appuntamento, di cosa si tratta? Sì, assolutamente, è l'inizio di questo quarto percorso del pensiero e la scena e stavolta partiamo con la celebrazione del cinquantesimo anniversario del 68. Abbiamo degli interpreti d'eccezione sul palco del nuovo Salagasman, Ettore Falsetti che è l'ideatore del pensiero e la scena e quindi ci sarà lui, ci sarà Gino Saladini, ci sarà Roberto Fiorentini e insieme a loro artisti che si formano al nuovo Salagasman e che porteranno in scena questo che può dirsi una conferenza artistica. Invitiamo il pubblico a venire, l'entrata è gratuita, è entrata libera e quindi vi aspettiamo venerdì per una cosa molto particolare al nuovo Salagasman alle 21. Di che tipo di spettacolo si tratta Enrico Maria? Beh, parlare di spettacolo è un ibrido diciamo, va molto di moda il suo ibrido, diciamo che è una conferenza artistica, ormai molti lo conoscono questo format quindi ne vengono, ci piacerebbe che anche altri si possano incuriosire perché è un modo assolutamente nuovo di poter raccontare eventi storici con un tocco personale che Ettore Falsetti aggiunge all'interno di questa conferenza spettacolo.